Chiara oggi grande lotta per te in mezzo al campo per tutte insomma una partita difficile impegnativa però grande carattere da parte di tutte. Sì diciamo che abbiamo affrontato una partita importante sapevamo che l'avversario ha una squadra molto tosta ci siamo preparati molto bene e purtroppo poi la partita è iniziata con un gol di svantaggio ma abbiamo fatto vedere che questo Brescia non è da meno e non ci siamo arrese la partita era ancora davvero lunga abbiamo provato a fare anche il secondo e poi abbiamo sembrato in difficoltà ma penso che durante una partita è ovvio che ci siano dei momenti dove fai un po' più fatica siamo siamo soddisfatte e abbiamo fatto un punto molto importante e partiamo da qui. Importante soprattutto non essersi abbattute dopo il gol di svantaggio è arrivato quasi per caso perché comunque su una punizione comunque la Lazio non aveva mai tirato in porta fino a quel momento e anzi forse stavamo facendo meglio noi. Sì diciamo che siamo partiti col piede giusto questo gol poteva tagliarci le gambe e solo che ci siamo guardate abbiamo capito che era davvero tanto presto avevamo tutto il tempo per fare qualsiasi cosa volevamo oggi abbiamo visto sicuramente una squadra importante confortarsi con noi ma abbiamo visto che questo Brescia non ha nulla di meno. Fondamentale è stata anche forse più la tenuta mentale che quella fisica negli ultimi 20-15-20 minuti di partita nella quale ci siamo abbassate un po' probabilmente per insomma un po' di stanchezza comprensibile per una partita molto dura. Sì diciamo che fisicamente chi più chi meno si è visto che eravamo molto stanche poi oggi era una giornata abbastanza calda e abbiamo abbassato un po' il baricentro purtroppo quando ti abbassi e vai in sofferenza e quando vai in sofferenza rischi davvero di prendere il gol. Ripeto noi abbiamo rischiato di farlo e sul finire magari un po' per calo fisico, un po' per il caldo, un po' per l'agitazione, la tensione abbiamo rischiato qualcosina di più. Un punto che te insomma come portavoce di tutta la squadra volete dedicare una bella prestazione a Gaia Farina che ha subito un brutto infortunio e dovrà operarsi nei prossimi giorni. Sì diciamo che è un gruppo che dedichiamo a tutte noi, a tutto lo staff, a tutta la società che sicuramente stiamo facendo qualcosa di bello, abbiamo avuto una reazione importante e sì sicuramente farei una menzione particolare a Gaia che ha subito un infortunio importante e l'aspettiamo e gli facciamo un grandissimo bocca al lupo. Grazie